ed eccoci qua nella challenger scendi tre volte di seguito a pinnecoli questa è la terza volta che ci scendiamo è arrivato anche boccia nel frattempo le prime tre abbiamo le due abbiamo fatte a soli e quindi adesso ci apprestiamo a scendere qui al campanile col cazzo io la faccio atterrare o ne la faccio mai ma non ho fatto un tempo a chiudere guarda che bastardo andiamo giù dai scendi giù sotto giù sotto certa roba è più più sotto più sotto più sotto più sotto ancora il sotterraneo 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 guarda mai fatto tutto da solo non c'è credo no no quello tu sei tu è tutto fatto qua sotto non c'è niente dentro però riuscimo della andiamo alle case a c si dai cazzo fai gordon dai è gordon che fa i giochi di prestigio io c'ho una cappa verde è un m4 verde come cazzo chiamate voi insomma la men c'abbiamo nessuno pure davanti a noi alla casa di roccata non c'è andato nessuno e stiamo pure fuori safe il forziere qua sopra lo sappia io avete detto che gli a cappa verde siete corazzati di a cappa verde ce l'avete dove aspettate non so se in casa o meno un po' vicino voi io non so dove state ragazzi stavo scoperto stavo qua davanti a noi trovo qua davanti a noi quella aveva preso stavo da conferma da sopra eccolo ho visto boh vabbè io lutto eh fatemi sapere c'è l'ho qua a posto andando sul tetto ragazzi se vi serve aiuto chiamatemi vi ricordo che dobbiamo andare in safe questo è morto subito no? non siamo in safe ragazzi non serve solo quell'm4 blu là per terra poi il resto non mi serve un cazzo ma io non ce l'ho già te l'ho lasciato a posto c'è il medikit ti serve quello? io ce l'ho uno del medikit qua ci sta un sacco di bende oh te l'ho da la giampa? dove oh? no dove oh? dove oh capito? guarda no il mio bibitone è deficiente allora allora salgo su da voi e prende la jump eh ce l'avete? ma sta jump? aspetta fammi tempo di tornare su ce l'avete? guarda che non c'avemo tempo di tornare su vai c'è sta qua a jump proprio arrivate e te e? ma ci cecchinano eh andiamo andiamo a mettere sta jump boccio dove stai? siamo là qua sto dietro di te qua davanti dai metti sta jump dai adesso su Gordon andiamo? buttala buttala sono qua io meno male perché sennò per attraversare sta parte guarda ci sparano da nord allora la casa al centro del lago c'ha una jump messa pronta sembra che vogliano aspettavano giusto che passavano noi praticamente levatevi di mezzo vanno fate queste cose però ragazzi Gordon ci sei? saliamo su sta montagna qua davanti guarda qua davanti a me le medie come state messi perché io ho solo un carrieto ho 2,70 io ho 84 aspetta credo su dai postami dietro mentre salgo che te li do in corsa attenti qui all'ultimo scarino scusate mi ricorda mi ricorda qualcosa questo la vita che abbiamo fatto qua allo stesso punto di prima tu sei arrivata la doppia bazookata e ma i magazzini vuol dire me lo piacciono non ci sono sempre la cazza 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 la vedevo anche illuminata ma adesso è andata via l'hanno presa invece quella cazza la cazza la cazza la cazza non 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 si si è stata la cazza vabbè che famo se eravamo da qua io direi di andare io direi di andare nella direzione della casa in collina che ne dite prima che ci lasciano però per favore prima che ci lasciano vaffanculo sono ancora più dietro ragazzi eh si ci sparano da molto più strano si si ci sparano da sud ok ragazzi non l'avevo visto oh cazzo no no forco due che calmedici io io c'ho medici non scendo perché ci stanno a sparare non vengo laggiù Gordon ah no sto salendo io chris ci stanno a sparare non so da dove eh ecco lì là li vedo 165 in mezzo alla valle se ne vanno se ne vanno tranquilli se ne vanno non li guarda medikit 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 eccolo eccolo qua il medikit lo vuoi da me no no me lo faccio a cricere ok me dai qualche materiale al volo ok quelli continuano a costruire e a scappare guardate a 150 bravo no ce l'abbiamo qua sotto sì una terra finiti finiti un po' dei materiali per cattone questo per cattone questo per cattone vai ecco ecco guarda ti ho lasciato tutto colpi di che ma è medio pesanti mi servono ti è qua un po' dei medi pesanti ce l'ho io pesanti pesanti qua se arriva qualcuno adesso ci sei in culo oh scusa vieni che ammazza a questo quello è cascato da sotto Gordon ok quello devi luttare quello da sotto regali mi date una jump se no siamo potuti ecco la jump va ancora sparano ragazzi ancora ci sparano da sud c'è una jump ritorniamo la sud stavamo e ci andiamo in jump devo andare qua c'è una k verde chi lo vuole un scar verde ragazzi dovete risalirmi su dovete risalirmi su stavamo prima ce la fate a salir su stavamo prima bravi bravi solo mi serve un po' di che te serve pure allora io c'ho un medikit medikit chi è che vuole il medikit qua lascia stare la safe medikit lascia stare la safe lascia stare la safe vai ecco la ecco la gianta vai ci aspettano quelli quelli in là ci aspettano andiamo in questa casa no e domo cammina ancora vai 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 quel fortatile non ci preoccupiamo dai che tanto sarà disabitato salite qua sopra con me che c'ha quelle che fanno zampare vediamo se la faccio a piazzarle in un tempo decente venite venite qua guardate un po' che bello basta eh allora ste case sono da luttare vuol dire che la gente ha scelchietto dentro qua ho lo spazio per tenerlo qua scudo da 50 me lo piva ragazzi che mi serve mi servirebbe anche me scudo da 50 che sono a zero qua c'è un medikit no tutta l'ovest c'è un po' blu del nono qua sotto adesso scudo da 50 c'è nessuno a scudo vero che sono a zero aspetta eccolo ragazzi hanno cazzo pure per qua sia a ovest che a nord vabbè quelli a nord sono tranquilli a nord sono tranquilli ti dico sono tranquilli a uno occhio boccio vai chissà con me vediamo è uno pure quello secondo me è uno pure quello oh cazzo mi sparano pure da su una terra e ne è rimasto uno sotto a te andrei si mi rido un po' eh ma mi sta a sparare pure lui a me porto due ci stanno non so non so se ci stanno pushando comunque mi hanno spartato da sicuro va safe io ho bisogno anche di cure cazzo non c'erano scudi vero io pure non ce l'ho scudi dai 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 ah c'avevo le gempe quelle lì la potevo mettere lì sopra vabbè la metto qua christo sto dietro a te la metto dietro a te ho una 155 155 vedrà quel casone è nato là dietro casone o nasone scusa casone ah siamo in sette noi quattro loro tre vedete che dovete fa costruiamo si si io non ho più materiale perfetto fatteli ah pure io non c'ho materiale che costruiamo sto cazzo fermi fate fate un fortino da uno così per per vedere dove stanno noi siamo quattro loro tre gli adoremmo fa se non se razzi si razzi due ma curatevi ricaricate le armi vediamo dove stanno questi dai non le fate cecchina c'è uno che si è spostato dalla casona che diceva Cria Sud eccolo lì sta andando verso dietro la montagna a 174 giusto per provare ciao occhio perché dovrebbero arrivare pure da sud ovest a chi serve un medikit se vieni qua te lo do io posso da un po' di legno sono 9 9 9 9 9 grazie arrivo ecco lì dove sta ma che no no il medikit ok ho di nuovo in safe boccio ti propongo questo che fai vieni con me ti modifico due secondi qua sta sulla montagna angelo 158 vediamo pure gente qua a sinistra siamo andati avanti lo vedete dove stiamo noi si noi siamo avanzati parecchio scusa boccio se andate se andate lì dove stavo io c'è quella per spignese insomma capito no si 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 è arrivato in un momento qua da noi boccio con chi ce l'hai fammi sapere volevo vedere se quello là stavo ancora là dentro ok c'era 95 c'era non lo so non l'ho buttata giù eh ma c'era dico eh non lo so non lo so non c'era ah non c'era si c'era eh c'era mi sa di sento non lo capisco io non so dove stanno è la prigione raga stanno in prigione dai qua è la sta trappola di chi era lo dite quando mettete le trappole per favore scusami andiamo in prigione io ne voglio c'ho fatto trappola da mente no no non andiamo in prigione guarda eccolo lì lassù ah là dentro no mi hai detto non c'era e allora occhio alle prigioni ragazzi occhio alle prigioni vabbè stiamo in safe dai va bene qui no io penso che siano nelle montagne dietro le prigioni perché quello che stavano sparando gli ecri che sta a sud 193 sopra la montagna va bene però noi stiamo qui non so dove si chiuderà però rimaniamo un attimo qui giusto ovviamente da l'u se vedete qualcuno tirategli una granata o sparategli si così pensano che stanno a fight e si rilassano un po' ma più che altro perché almeno non c'ho tre cazzo di cose davanti al naso possiamo vedere quella collina per bene io mi do un cazzo in su boccio non mi devi panicare stavolta non voglio che ti appanichi qualcuno controlla controlla anche un attimo dietro eccoli là si sopra la montagna super ti ho visto saltare eccoli vai 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 spara io se lo vedi attenti agli altri mentre sparate a quello e uno è quello occhio non fa un po' a vecettinare bravo non sta manco non sta manco un safe vai vai fate così perfetto che continui a coprirsi e dirà spiegarà da sotto no giù l'ho ancora ah corta corta oh bravissimo bravissimo becca di questo io 5-3 5-3 a cattone voi di cui 5 a cattone cominciamo complimenti